Benvenuto in questo nuovo video tutorial su PowerPoint 2016. Oggi ti spiego come personalizzare i temi ed inserire transizioni e animazioni nella tua presentazione. Per mettere un tema di sfondo nella diapositiva, clicca su Progettazione. Ora, scegliamo un tema. Se vuoi, scegli una variante. Andiamo su Formato sfondo. Da qui possiamo personalizzare il riempimento di sfondo. Io penso che per la mia presentazione è meglio riempimento sfumato. Nascondiamo la grafica spuntando Nascondi grafica di sfondo. Ora, stabiliamo il tipo di sfumatura e la direzione. Stabilisci anche a che punto deve interrompersi la sfumatura impostando le impostazioni sfumatura. Puoi cambiare il colore dello sfondo. Ora, chiudiamo il formato sfondo e parliamo di transizioni. Con questa funzione possiamo stabilire il tipo di transizione tra una diapositiva e l'altra. Vai su Transizioni. Ci sono diversi tipi di transizioni che stabilisci per ogni diapositiva. Io vado sulla seconda diapositiva e scelgo Sfumato. Ora, decidiamo il suono al passaggio tra una diapositiva e l'altra. Vorresti avere un'anteprima della mia presentazione? Ora, usciamo dalla presentazione e passiamo alle animazioni. Clicca su Animazioni. Selezioniamo l'oggetto da animare, in questo caso sulla casella di testo. Io scelgo di farlo apparire a comparsa. Puoi aggiungere un'altra animazione oltre a quella selezionata cliccando su Aggiungi Animazione. Io scelgo Pulsazione. Guardate cosa succede a ogni clic. Ora, usciamo dalla presentazione. Personalizzo ogni singola animazione inserita cliccando su Riquadro Animazione. Qui puoi selezionare una singola animazione e personalizzarla. Ora, decidiamo quando dare inizio all'animazione, quanto deve durare e quanto deve essere ritardata. Grazie per aver guardato il mio video. Clicca Mi Piace se hai trovato utile questo video. Se hai domande, falle nei commenti qui sotto scrivendomi una mail all'indirizzo comeusare.tutorial.gmail.com Ti risponderò il prima possibile. Non perderti il prossimo video intitolato Avviare, impostare e registrare la presentazione. Ciao! 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 Ciao!